Almeno tre piacentini ogni giorno vengono ricoverati a causa dello scompenso cardiaco, una delle epidemie più diffuse che si combatte con prevenzione e informazione. Proprio per questo motivo l'Ausli di Piacenza organizza ben sette incontri per la nuova edizione delle giornate dello scompenso cardiaco. Dal 7 all'11 maggio ci saranno eventi in città e in provincia. Ci si potrà misurare la pressione nelle farmacie che deriranno all'iniziativa. Verranno allestiti Gazebo del Cuore, Castel San Giovanni, Bobbi e Fiorenzuola e a Piacenza saranno in Largo Battisti sabato 11 maggio dalle 9 alle 12. Momenti di confronto anche le case della salute di Borgonove e Podenzano e sempre sabato 11 maggio Tavola Rotonda alle 16 l'Auditorium Santilario di Piacenza. Non è una cosa scontata che una città e una cardiologia venga riconfermata come trainer all'interno di questo evento, che è un evento europeo, non è un evento solo nazionale. Lo scompenso cardiaco è la principale causa di morte e di ospedalizzazione nella popolazione generale, soprattutto nei pazienti sopra i 75 anni. In Italia abbiamo circa un milione di pazienti, a Piacenza abbiamo circa tre ricoveri al giorno legati allo scompenso cardiaco, quindi è una principale causa di ospedalizzazione. La nostra campagna è proprio quella rivolta alla sensibilizzazione verso questa patologia che spesso viene sottostimata e la capacità di far conoscere alle persone che è una patologia che può essere riconosciuta, trattata e può essere prevenuta.